Si è svolta presso la sede della Fondazione Saccone a Montecolvino Pugliano in località Pagliarone la conferenza stampa su Educare, Ricreare, Socialità. Il progetto che stimola competenze e creatività di giovani e adolescenti di età dei 9 e 17 anni. Promosso da Fondazione Saccone in collaborazione con il Comune di Montecolvino Pugliano e il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno e finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del Bando Educare, proponendosi come possibilità di svolta e di riscoperta della normalità dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19. Attraverso laboratori didattici, di interattive attività ludico-creative e nuove tecnologie, circa 200 giovani principalmente dei territori di Montecolvino Pugliano, Ponte Cagnano, Montecolvino Rovella, Battipaglia, Eboli e Salerno avranno l'opportunità di mettersi in gioco, di scoprire la forza del lavoro di squadra e di sviluppare nuovi stimoli di interessi. L'obiettivo infatti è proprio quello di rafforzare le conoscenze e le competenze centrali per l'empowerment giovanile a partire dal recupero della socialità. La Fondazione Saccone proporrà nel palinsesto del programma delle attività due laboratori, uno di coding, quindi di 40 ore dedicato a 40 bimbi accompagnati dalla professoressa dell'Università di Salerno Angela Peduto a questo percorso che accompagna i giovani alla logica computazionale, al problem solving. E poi un altro laboratorio sempre di 40 ore che abbiamo denominato Be Smart Kids che è un misto tra il gioco dell'oca e un gioco a quiz, quindi sempre per lo sviluppo della logica computazionale. Poi avremo attività ludico-ricreative, quindi con la rievocazione storica del comune di Monte Corvino Pugliano con il palio delle frazioni che sarà dedicato per la prima volta ai più giovani, quindi nella fascia d'età compresa tra i 9 e i 13 anni. Il liceo Tasso invece propone un percorso davvero interessante che è nelle corde della Fondazione Saccone, di fatto c'è stata una grandissima collaborazione cioè quella di portare a contaminare l'attività, l'aspetto storico-archeologico con quello digitale quindi per dare inizio ai ragazzi a quella che è la figura dell'umanista digitale. In che cosa consisterà? Fondamentalmente faranno dei laboratori formativi per imparare l'utilizzo delle stampanti 3D e quindi andranno proprio riprodotti dei manufatti che oggi sono esposti al Museo Nazionale Archeologico di Ponte Cagnano e ne verrà creato un museo digitale. Quindi saranno tutte attività che promosse da questo ATS, quindi pubblico privato che inizieranno a brevissimo, quindi entro la metà di luglio conteremo di dare inizio alle attività fino al 30 novembre, quindi saranno sei mesi ricchi e intensi di lavoro per tutti. Il titolo è indicativo in questo senso, ricreare socialità serve per ritornare sul territorio ritornare e lavorare con il territorio per riconoscerlo riconoscerlo, riconoscere se stessi, riconoscere gli altri e anche riconoscere il territorio non dico conoscere appositamente perché si presume che ciascuno di noi conosca il luogo in cui vive questo progetto invece serve anche per approfondire la conoscenza con il territorio. Nell'ambito del progetto Educare rientra anche il Palio delle Frazioni che quest'anno vedrà il coinvolgimento dei giovani del territorio. Sì, i giovani del territorio di Montecrovino Buiano con questa bellissima attività già sono stati coinvolti nei diversi anni, quindi il Palio delle Frazioni è il tema principale di questa amministrazione che ha messo già le radici del coinvolgimento di molti giovani, quindi insieme con la collaborazione del Forno dei giovani che è un'istituzione attualmente già consolidata nel comune di Montecrovino Buiano che ha visto fare diverse attività, quindi coinvolgimento dei giovani, c'è sempre stato a Montecrovino Buiano, attualmente c'è la necessità di poter dare una mano ai giovani che hanno avuto in questo periodo difficoltà notevoli come sappiamo noi psicologicamente e quindi coinvolgeremo quelle fasce di quei giovani che, come ho detto anche precedentemente, che hanno avuto difficoltà in questo periodo.